In concomitanza con l'arrivo della primavera si svolge da circa 10 anni uno dei principali appuntamenti della Lilt, la settimana nazionale per la prevenzione oncologica istituita con decreto del Presidente del Consiglio che ha lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione e l'importanza di corretti stili di vita. Il simbolo della settimana per la prevenzione è la bottiglia d'olio d'oliva extravergine, il principe della dieta mediterranea. Anche nelle strutture del nostro territorio i volontari della Lilt sono presenti con la loro postazione. I banchetti per questa settimana saranno non solo qui in oncologia a Fano ma anche presso l'oncologia dell'ospedale San Salvatore a Muraglia con orario dalle 9 a mezzogiorno. Attendiamo tutti quelli che vogliono informazioni, consegneremo l'opuscolo gratuitamente e anche il gadget della settimana nazionale della prevenzione oncologica che è una bottiglietta di olio di extravergine di oliva. Prevenire è l'unico mezzo efficace per abbattere drasticamente le statistiche in campo oncologico e prevenzione è anche conoscenza. Adesso sappiamo da dati scientifici che circa il 60% di tutti i tumori è causato dagli stili di vita non corretti, il fumo, l'alimentazione e anche alcuni ambienti di lavoro. Quindi ad operarsi in questo, in una vita sana che consiste in un'attività fisica, nel rispettare le regole alimentari che sono proprie della nostra dieta. Noi abbiamo inventato la nostra dieta mediterranea che è un capisaldo nella prevenzione di questi tumori. Direi che questo è un po' una soddisfazione ed è una garanzia per le prossime generazioni.